Forte, io uso le pelletone No, materiali Andiamo subito, andiamo Ma perché sei uscito, credo di non prendere materiali, Martino Ma è materiali È tardi, è tardi A poco, Dio Guarda che non ci arrivo No, non anch'io Conto alla rovescia del minuto, dobbiamo Eh, no, no, che stia assa, eh, che sei seduto No, no, che stia assa, eh, che sei seduto Complimenti, Ben Complimenti Materiali di più di quanto Oggi hai compiuto un altro passo nella lunga scalata verso... Parere a caldo Anche noi siamo stanchi Di tempo Ah, avventura E' quella bella scritta rossa, io No, mamma mia God, ero Oggi dorme tra gli stessi Dio Oddio Chiamate, chiamate Ehi, sto stornutendo Atterraggio pelican one in corso Roltaggio insomma maestria belicano 1 pronta alla partenza lancio lasciato oltre a 20 secondi forse ma la fai davvero ma io ci sono dentro cos'è che fai